Vabbè Janssen è un coglione Ho messo MR chat Smartfed actually Contro di lui ragazzi con Jax Credo che andrò di carapting Andrò di carapting perchè Perchè lui ci farà molti danni Sosteniamo un po' e via Arrivo anch'io Viaggio in solita Valentina Che vai Valentina Bet up da parte del signor misterio Non bevo quella cosa che ci faccio in sta live E supporti il canale Minchia Yumi Kassadin Comunque si è per dire che mi sento un po' perso Fatto mi cadevo easy Quindi febbruccia Ma saranno che poi febbre a marzo Se volete bettare ragazzi ci sono le bet sopra Quindi quando bettate usate i vostri Questi che cazzo sono cane points Bo I want this chicken Non mi scammerò le bet E chi scama? No nel senso non E poi Tutti danno la colpa a sto covid Dicono si vabbè magari non ho perso voglia di fare le cose per il covid O cose del genere Io ho messo l'host Vaffanculo No? Invece io non voglio dare la colpa al covid Credo di non Non so Allora in realtà Da poco mi sono ritorato con la streaming Tipo ieri Quando ho streamato Mi sono stato veramente soddisfatto della streaming Infatti stamattina sono High pass fuck Hey ninja how are you? Yo Henry I'm so good I'm so good Bye Certo Dicissimo tutti i giorni Dalla mattina alla sera E E quindi mi sento semplicemente Ma non credo sia neanche modernia Mi sento un po' Boh un po' che non so Quello effettivamente da fare Della mia vita Ma Eh cosa è un coglione Singer mi ha giotto il cazzo Eh Ma non voglio dare la colpa al covid Perché sono più che sicuro Che non è colpa del covid Cioè io sono più che sicuro Che la colpa è solo mia Che Non mi do stimoli a cose del genere Ma un tempo mi li davo da solo Invece ho Sti giochi Cioè non riesco un po' più a darmeli Ne sto a palazza mattina Con il mio amico Che c'è suscito Eh signore Lei era stunnato però Triunfa B topside Toxic bro Palla in testa Altro che toxic Già sbutta altri due gap Tipo le bonus hunter E' una cosa che mi piace veramente tanto fare Veramente tanto fare Ciao amico Tanto 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 fare il bonus hunter Ma le ho levate perché credo sia In questo momento Non voglio gridare Cioè non voglio appunto portare quel continuo in streaming Aspettiamo Magari Non le riporterò a maggio Le riporterò a metà aprile Magari Se faccio una bella vincita a poker Le riporto pure subito Cioè se domenica vinciamo 10k 10 giorno dopo bonus hunter 2k Nel senso Nel senso Non c'è Pettacci Pettacci due volte Tenta pettacci due volte E' una pezza del merda Vieni qua Ti ci monto Via Sì no No eh Non va bene la faccia così Oddio ho trollato Penso fosse Facciamo fare un attacco alla torre Mamma mia che giocatore Boom Non chilo i minion No La slot farmamenta in game No no Vuoi andare a malta Diventa un casino streamer bro What? Grande bro Keep it up Keep it up Facciamo un bel meme Io La mia fortuna Ah qua serve un bel meme ragazzi Un bel meme Serve un bel meme da fare chat Oh ma vuole riconcare back to back Perché io do il culo Che qua posso ingaggiarlo No No Moride Moride giuro Ride Giuda You are So insecure Pretty sure Selfie Self confidence chat Io lo dico Prima che accada Prima che accada Io ti rompo il culo Prima che accada Prima che accada Lo dico cazzo Prima che accada Prima che accada Dopo sono tutti i boni Prima che accada Io Te lo dico prima Prima che accada Dunque vi back to back Anche veramente un gank di merda Mi ha fatto E credo che Lui abbia Gnite up adesso Vedete Non mi ha risposto Eh Singad Sai che c'ho ragione Oh merda Oh what Penso del test Che cazzo t'ha cosa Cominio Ah cazzo Non so da faggankà Botto come stanno essi Ah merda Arrivo mille I don't cook I don't clean E Caterina Ho pure i succhiare Che cazzo Cazzo Infidali Fidali Singad Guardate La bro c'è Singad Per l'amor di Dio Se muori Mi incazzo Una bestia Oddio ragazzi È so mad È so mad Ragazzi È so mad È so Actuary È so mad È so mad Oddio ragazzi Questo è tiltato Mi siamo entrati nel cervello Ragazzi Mi siamo entrati nel cervello Ve lo assicuro Ora con le scarpe Sarà molto difficile Cercare di prenderlo Come scarpe Noi vedremo Mercury Non credo Fermo Tubby Sì sì Svanta nel cervello Botta stentando Che culo Non ci ho tp purtroppo Non voglio farmi buttare O cheēsl như L A A B B B B B B är Grazie a tutti. Dai, dai. Povera V. Eh, non do' a farlo questa cosa, do' a stare back per i ragazzi suoi, signori miei qua. Comunque non builderò TAPS, non c'ha senso, perché buildare TAPS vuol dire semplicemente aiutare Singed a scalarmi meglio, visto che lui fa solo l'NP. Showdown su Trash. Ah, non ho preso Showdown? Vabbè. Singed mid. Io non credo che siano scatti o meno. Chat. Chat, allora, posso spiegarvi cosa è successo? Vi non c'ho la ulti, sono 3 bot. La prendiamo in un secondo momento, la torre, perché andiamo. Quanto prendiamo in loro forse la tower, credo, con... Yeah. Oh, ok. Oh, ok. German qua dovrebbe andare top, però c'è il drogo tra poco. Mi regalo andrò io top. Builderò la Divine contro quel team, credo che sia Gucci. Per come sto messo potranno andare anche i Triports. Oh se no. Se no chat che potremmo buildare se no. Eh? Wait. No, facciamo Shibov into Essence dai. Manderò un emotivo e mi deve streamer. Ma si può vedere? Oddio, non lo dite. Proverso Jax? Sì, decisamente. Se siete migliori da buildarsi. Siamo un po' troppo tossici. Cecio è tossicissimo. Valerio, essendo la fava parte di me, credo insieme. Fa be' danni Isingad. Per questo buildiamo Shibov. Doppio sustain a Gucci. E poi builderò Essence River. Anche se forse potrei addirittura pensare di andare di Withsand. Ma se buildassi invece Divine Withsand? Non è male di Divine Withsand. Andiamo di Divine Withsand. Credo non sia niente male. Ma l'Erad l'abbiamo usato noi. Maestro Trenas... Trenas Aigelo. Ma la questione è buona con Jax che... A me serve Attack Speed. Perché se vado di Divine ho bisogno di Attack Speed per proccare il più volte possibile la Blank King. Quindi in questo momento per me l'Attack Speed è una risorsa importante. Visto che la buildo sulla Divine e la buildo sulla Withsand, che comunque mi dà Mary che mi serve contro Singad e Katarina, è un ottimo item. Ok, finalmente. Non si sa ancora quando uscirà, signor Rider. Dovrei chiedere. O magari già uscite, non lo so. Boh. Anche io la voglio. Eh, ma in Trenas sono già... Dovrebbero essere già stati... Lo chiederò. Lo chiederò. Aspetta, ma... Eh, no, ma non posso. Devo ritrovare la chat. Che cazzo io va. Sono carino. Ne mutande quando? Minchia, ne mutande sarebbe carino farle. Holy shit. Ne mutande sarebbe veramente bello farle. Ma davvero, Gris? Non l'ho vista. LOL. Ma questa settimana la cambia, no? È so good così. Su gente come... Madonna, così diventa veramente forte. Figare è spinta da Rumia. Attenzione. Attenzione. Sarebbero pure buildare spiriti contro quello lì là. Sarebbero pure buildare spiriti perché Yumi cura e... Riusciamo a prendere il massimo del vantaggio. Così dare quelli di Yumi. Push perché arriva a Shinged Mid e il loro team è in svantaggio. Quindi qua do per forza pushare. Ok, va benissimo. Di va in tra poco. Vabbè, sta partita ragazzi siamo troppo head. Sarebbero lo botta poi vinto... No, va finito, oddio. Grazie. Sì, possiamo moderare la chat. Questo Ezreal è veramente un scandalo Now look at this E' vero Magari l'ha fatto apposta per lo streamer così si fa la settimana senza ore in più di streaming SS Get Pika Per quello ti ho visto stanco grazie Sulzi Ma diciamo dopo dieci ore di live forse ci sta che sono stanco Vuol dire di Kani ma sei streaming solo da due ore e dieci oggi? Eh no Stamattina abbiamo fatto altre due ore di live Quindi Quattro ore e dieci già di live Sì 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 Eh sì sì Io conto tutto chat Conto tutto Ok Vai Fate rosso eh Casino è appena morto un bot C'è ragione c'è ragione Quattro ore di fiumi Plastizzare Non Quattro ore di fiumi no look at this 260 gold porca troia no possiamo banare il massaggio del maestro la tua chat non mi dà rispetto assoluto che medico facciamo qualcosa signor rider ma lei mi dà rispetto dopo il modo in cui si comporta ogni giorno in questa streaming ciao ci sei maestro ma lei è un genio maestro ma lei è un genio ci insegni ok stiamo parlando veramente bene oggi no look at this mo abbiamo una merata text speed una merata mr c'è il canone qua no grazie cazzo in senso io non ci avrei mai fatta vogliamo gridarla ok No, no, questo Zyral non può prendere ventagill Dai avevo detto, quanto tempo fa l'avevo detto? Eh chat? Qualcuno se lo ricorda quanto tempo fa avevo detto di aver rotto il culo a questo Zynged? Mamma mia miseria, io lo sapevo Vediamo i danni, 37, buono, abbiamo più punti, quelli che perdiamo Top damage, buonissimo, così, GG GG, GG Bel game, bel game